Luciano sei pronto? Prepariamo il vero pesto genovese. Però non prendere il frullino, lo facciamo con il mortaio. Mettiamo l'aglio, il sale grosso, poi i pinoli, il basilico e pestiamo, pestiamo. Adesso aggiungiamo il parmigiano e il pecorino e continuiamo a pestare. Aggiungiamo ancora l'olio e il pesto è pronto.